Sì assolutamente, siamo qui nel Dipartimento di Matematica dell'Università di Ferrara insieme al professor Guido Sciavico e il suo giovane team di ricercatori e di studenti hanno appunto ammesso a punto questo sistema che promette di essere rivoluzionario, un'arma in più contro il Covid. In che cosa consiste? In questo prototipo quello che noi siamo in grado di fare è riconoscere la positività o la negatività attraverso l'analisi delle registrazioni o del colpo di tosse o di un respiro. Come si farebbe dal medico? Vediamo come funziona, sentiamo quello che abbiamo registrato, il mio respiro che è appunto negativo. E qui si sente appunto questo suono, ovviamente è sintetizzato, non è il mio respiro, invece sentiamo quello che è risultato positivo al Covid. E quindi già al suono si sente che è diverso, ma cioè qual è il funzionamento? Certo, al suono si può sentire che è diverso, però la macchina è in grado di evidenziare le frequenze e i punti importanti di queste frequenze che mettono in risalto la differenza. La cosa interessante di questo metodo rispetto agli altri è che si tratta di un metodo che permette di evidenziare le regole con le quali le decisioni sono prese. Diciamo rispetto agli altri perché tutta l'Università del mondo, compreso Cambridge, stanno cercando di mettere a punto questo sistema. Quindi c'è una competizione tra le università e possiamo dire che l'Italia con i suoi ricercatori sta facendo un piccolo passo avanti. Certo, la scienza è fatta di risultati che vengono ripetuti in altre università e in altri centri di ricerca. L'importante è che vengano fatti con metodi diversi per riuscire a costruire qualcosa di nuovo, come nel nostro caso. Quindi la grande menzione è quali potrebbero essere le applicazioni nella vita reale di tutti i giorni, magari in un prossimo futuro? Beh, per esempio, come è abbastanza ovvio, un sistema del genere che richiede così poca potenza computazionale potrebbe essere inserito all'interno di una app che eventualmente ci ascolta o a richiesta o in maniera automatica e ci avverti di una potenziale positività. Quindi una cosa incredibile, io vorrei appunto ringraziare il professore e anche citare gli altri membri del team che sono Federico Manzella che è studente, quindi non è ancora ricercatore, quindi un piccolo genio, Edward Sten e Giovanni Pagliarini. Non so se Serena hai delle domande per il professore. No, noi siamo molto incantati, qui c'è la professoressa Stefania Salmaso che ringrazio per essere tornata a trovarci. Buongiorno. La sapete, c'è Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle, collegato da Torino, Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Lo sapeva questa cosa la professoressa? Beh, l'anno scorso è uscito qualcosa del genere, io mi chiedo se per chi non ha completamente sintomi sia lo stesso che sensibilità abbia questo sistema. La sensibilità per il momento è studiata su dei campioni ovviamente che noi conoscevamo e è risultata abbastanza affidabile anche nel caso di asintomatici, sì. Ecco, perché questo sarebbe veramente molto utile. L'anno scorso se ne era parlato ma sembrava che fosse per chi aveva la tosse in effetti. Quindi abbiamo scoperto una cosa in più, quindi se capisco bene un giorno noi potremmo avere sul nostro telefonino una app e capire da una app se, semplicemente appunto tossendo, che se abbiamo il Covid o meno. Che tempi abbiamo di ricerca? Cioè a che punto è la ricerca? Si tratta ovviamente di una ricerca molto molto sperimentale che deve essere prima di tutto costruita diciamo con altri insiemi di dati per essere validata e poi validata anche dalla comunità medica, cosa che in questo momento non è assolutamente stato fatto. Probabilmente in un anno o qualcosa del genere, un anno, un anno e mezzo si potrebbe arrivare a un risultato più utilizzabile anche forse commercialmente. Ecco, può essere utile questo professoressa anche per una diagnosi precoce, no? Perché si parla anche delle cure sul Covid, no? Certo, immagino che questo potrà essere utile quando avremo abbastanza dati sia sulla sensibilità, cioè effettivamente quanti casi di Covid vengono identificati di tutti quelli che ci sanno e anche sulla specificità perché magari uno ha la tosse ma non c'è il Covid. Quindi sarà importante e non è contagio. E noi oggi che sono raffreddato ho fatto il capo. Esatto, chi ha l'allergia, che ha altre cose. E quindi immagino che visto che questo, da quello che capisco, utilizza l'intelligenza artificiale avrà bisogno di una caterva di informazioni, di registrazioni, di persone su cui la diagnosi è certa e ci sarà un sistema per cui il software impara e distingue e discrimina. Certo è molto attraente. Grazie davvero, proprio il caso di dirlo, buon lavoro di cuore. Guarda tutte le formule dietro, io già mi perderei. Le eccellenze italiane dei nostri cercatori. No, ma guardo le formule, sembrano appunto quella lavagna, altro che la mia. Io al massimo qua scrivo 90%, professoressa no, perché lei aveva detto, se non erro, ecco, recupero pure il gessetto, che bisognava arrivare, siccome la mia, proprio identica, la mia, proprio identica, allora voglio sapere cosa c'è scritto, 93% bisognava arrivare di vaccinati per avere, diciamo così, la sicurezza che questo virus non muti, non cambi, non introduca altre varianti. Ma io sarei ancora più cauta adesso, non mi ricordo quando ho detto un 93%, però certo ci vogliono cifre molto alte, perché al 98, anzi no mi sbaglio, ho detto 98 e non 93, mi scusi, ci davo abbraccio. Allora sì, ci vuole una proporzione di vaccinati estremamente elevata e soprattutto in questo frangente non mi sembra ormai che l'immunità di gregge di cui tanto si parla sia perseguibile in quanto immunità di gregge. E' vero che se abbiamo una popolazione che è quasi completamente vaccinata, perché il 98% è quasi tutti, avremo sicuramente una minore quantità di persone che hanno bisogno di cure in modo così massiccio da bloccare la possibilità di curare chiunque altro. E quindi diciamo che lo sforzo di vaccinare più persone possibile è sempre valido. Bene, allora, un'altra domanda che volevo farle sempre sul Green Pass, peraltro via libera della Camera la fiducia posta dal Governo sulla conversione del decreto Green Pass scuole e trasporti del 6 agosto, questo ora passerà in Senato, 17 mila nuovi casi, dice Gimbi, nella popolazione fra 0 e 19 anni, un'impennata dei casi tra i bambini al di sotto dei 3 anni. Ecco, vaccini ai minori, professoressa Sanmaso, sotto i 12 anni. Sì, noi sappiamo che sono approvati sopra i 12 anni. Sopra i 12 anni li stiamo già facendo, sotto i 12 anni abbiamo questo annuncio di Pfizer, quindi del produttore, che certamente sarà fondato, però non è una valutazione indipendente, dove stanno facendo le sperimentazioni arruolando i bambini sotto i 12 anni, quindi questa fascia iniziale di cui dicono di avere i risultati positivi è tra i 5 e i 11 anni, hanno studiato 2.200 bambini e hanno dichiarato di aver ottenuto una buona risposta anticorpale con un dosaggio che è un terzo del dosaggio utilizzato fino adesso. Quindi la fiale è più ridotta? Quindi sì, la quantità di vaccino è più ridotta, adesso però diciamo che tutti gli annunci dei produttori sono indicativi, ma ovviamente aspettiamo le valutazioni indipendenti. Allora, ovviamente la vaccinazione però dei ragazzini dai 12 anni in su, lei la consiglia, la raccomanda, la ritiene necessaria o la sconsiglia? No, assolutamente io penso che questa sia una fascia di popolazione che è stata particolarmente colpita e su cui adesso sta sostenendo anche la circolazione insieme ai giovani adolescenti e quindi penso che sia assolutamente da consigliare la vaccinazione. Abbiamo sufficienti casistiche di quantità di gente vaccinata per stare abbastanza tranquilli sugli effetti collaterali e ritengo che poi scendendo nelle varie fasce di età ogni volta diciamo che autorizza i vaccini non solo deve vedere che quel prodotto rispecchi determinate caratteristiche di qualità ma deve fare una valutazione anche rischi benefici e lì sul beneficio che dobbiamo capire esattamente quanto il vaccinato abbia un beneficio diretto anche se ci sono molti punti interrogativi attuali quali per esempio gli effetti a lungo termine del covid e questo è una situazione di cui non sappiamo sappiamo che chi prende covid poi può manifestare a distanza una serie di complicanze o effetti di diversa natura che ancora non sono stati completamente ben studiati ma effettivamente questo è un problema e poi c'è da dire che tutti gli annesi connessi dell'infezione che circola tra i ragazzi per cui i ragazzi vengono bloccati nelle loro attività quotidiane e quindi questo è un problema. Con la chiusura delle scuole. Con la chiusura delle scuole, con la nuova vita sociale. Allora parto da lei Donzelli, ci siamo rivisti qualche giorno fa, il Green Pass ancora non è stato approvato, ora diciamo è stato definito ma il fatto che si riscontra un aumento delle vaccinazioni proprio per il fatto che per entrare a lavorare dovrai mostrare questo Green Pass c'è questa piccola variazione, se non hai il Green Pass non verrai sospeso dal lavoro ma ti sarà tolto lo stipendio il che vuol dire che poi potrai rientrare non appena avrai mostrato la vaccinazione o il tampone questo avviene per i dipendenti pubblici e per i dipendenti delle aziende sopra i 15 dipendenti invece per le aziende più piccole sotto i 15 dipendenti c'è la sospensione perché in quel caso le aziende devono comunque garantire la continuità produttiva ecco il fatto che ci sia questo aumento dei vaccini non la conforta, cioè non le fa ritenere che funziona perché spinge a vaccinarsi, se non altro per quello? Sicuramente il fatto che aumenti nei vaccini è una buona notizia il metodo per arrivare a questo aumento dei vaccini a noi ci lascia molto perplessi perché ovviamente se inizialmente come aveva detto il Presidente del Consiglio Draghi si doveva avere tutto il Green Pass perché come aveva detto nella conferenza stampa il 22 luglio frequentando un luogo con persone con il Green Pass si è sicuri di non venire contagiati allora aveva un senso, poi si è scoperto che questo non è vero che quindi diventa uno strumento di persuasione o coercizione comunque per spingere alla vaccinazione ecco usare il tema del lavoro che è un diritto sancito dalla Costituzione per convincere a vaccinarsi ci sembra un po' forte è l'unica nazione in tutto il mondo che arriva a questo tipo di ricatto sul lavoro sinceramente sfruttando i medici di base facendo delle campagne di convincimento forse si riusciva a raggiungere gli stessi risultati senza andare a ricattare le persone sul lavoro che anche da Costituzione è nei principi fondamentali ecco non ci sembra proprio, è molto delicato andare a usare il lavoro come arma cioè il ricatto non ti faccio lavorare come arma di persuasione però vorrei capire perché lei parla di ricatto nel senso perché è un ricatto se il vaccino è utile perché è un ricatto io lo spingo a fare una cosa che è utile ma si ritorna lì, guardate lo Stato con ragione, con torto, non voglio entrare ha stabilito che non è obbligatorio vaccinarsi ha stabilito che è un'opzione allora se è un'opzione dire alle persone è una tua scelta, è un tuo gusto è una cosa che puoi fare o non puoi fare ma sei libero di scegliere e poi dico però non ti faccio lavorare se non lo scegli è un po' vigliacco avrebbe più senso che lo Stato a quel punto dicessi chi si vaccina? mi prendo io tutte le responsabilità delle conseguenze lei avrebbe fatto l'obbligo vaccinale voi a quel punto dici andiamo con l'obbligo vaccinale perché pure a quello però voi siete contrari intanto una cosa molto utile sarebbe che lo Stato si prendesse la responsabilità di eventuali conseguenze negative questo sarebbe un modo per togliere qualsiasi arma enobax che continuano a dire no ma può essere pericoloso il vaccino non pericoloso se lo Stato dice mi assumo io ogni responsabilità se ci sono conseguenze, controindicazioni dopo che hai fatto il vaccino ne sono io responsabile disarmerebbe moltissimo enobax e potrebbe essere un modo per convincere i cittadini più di tante altre cose allora in Italia abbiamo una grandissima esperienza sulle vaccinazioni dell'infanzia perché tutti quanti abbiamo fatto vaccinare i nostri figli alcuni sono obbligatori altri non sono obbligatori diamogli un microfono non si interrompe così un'emozione c'è stato un blackout allora volevo dire abbiamo una grande esperienza abbiamo una grande esperienza di utilizzo di vaccini e soprattutto di distinzione tra obbligatori e non obbligatori in Italia c'è una legge la 210 che prevede il risarcimento del danno da vaccino da trasfusione una legge vecchissima per i vaccini obbligatori ma mano a mano che ci siamo spostati abbiamo introdotto i vaccini fortemente raccomandati facciamo un esempio per tutti il morbillo tutti fanno il morbillo la vaccinazione viene richiesta a tutti oggi in Italia ma non è un vaccino obbligatorio in senso stretto però ormai tutta la giurisprudenza ha dichiarato che quando lo Stato raccomanda fortemente una vaccinazione la responsabilità di eventuali danni è equiparata a quelli obbligatori io quindi non capisco questo punto quindi ci sarebbe già quindi l'applicazione della legge 210 ove mai ci fossero dei danni ove mai ci fossero dei danni che sono dimostrati associati alla vaccinazione che è stata offerta attivamente e fortemente raccomandata dallo Stato legalmente io credo che la giurisprudenza non sono una leguleia non lo so però da quello che ho visto sulle vaccinazioni infantili viene riconosciuto anche per le vaccinazioni fortemente raccomandate mi permetto con il rispetto perché ovviamente davanti alla scienza sulle questioni tecniche mi inchino poi però si parla di politica e a questo punto dico che se è la giurisprudenza compito il Parlamento non è lasciare poi dopo interpretare i giudici è fare le leggi se il Parlamento è convinto di questo faccia una legge senza lasciare poi l'interpretazione ai giudici ma il raccino contro il morbillo non ha l'obbligo però è coperto dalla stessa situazione va beh adesso andiamo su Ricciardi vi do due notizie una che spero non c'entra con quello di cui stiamo parlando però è una vicenda che ha colpito tanti è stato arrestato a Parigi lo zio Danish indagato per l'omicidio di Saman Abbas ve la ricordate? la ragazzina scomparsa ragazzina della pakistana oggi è una pakistana scomparsa presumibilmente uccisa dai parenti perché voleva vivere una vita libera indipendente come hanno diritto di vivere tutti coloro che risiedono sul nostro territorio come ha diritto di vivere qualunque cittadino del mondo e quindi è stato arrestato e vi do un altro paio di notizie Germania niente salario ai non vaccinati in quarantena cioè se io non mi vaccino e vado in quarantena non ti pago lo stipendio e mentre in Francia a partire da lunedì via le mascherine in alcune scuole in cui il tasso di incidenza è inferiore c'è un calcolo statistico diciamo stanno cominciando ad allentare il discorso delle mascherine nei casi appunto in cui si entri col green pass Ricciardi se vuoi rispondere anche all'obiezione che le dà facendo il problema è che è un po' inutile rispondere perché tanto si risponde si portano dei dati e poi il Fratelli d'Italia continua a ripetere il solito ritornello qui di fronte a un vaccino che l'Istituto Superiore di Sanità dice che ha abbassato cioè un vaccinato al 94% di probabilità in meno di morire il 97% in meno di andare in ospedale abbassa del 73% mi sembra la contagiosità e ha evitato 34.000 morti e lo dice l'Istituto Superiore della Sanità io non vedo cosa ci sia da discutere non capisco proprio è stata presa una strada all'inizio ricordo tutti la polemica era dovete vaccinare prima delle categorie anziché altre tutti era la corsa al vaccino quindi andavi con una categoria l'opposizione diceva no dovete andare con un'altra poi quando le persone hanno cominciato a vaccinarsi si è introdotto il Green Pass come strumento per arrivare laddove non si stava riuscendo ad arrivare e i risultati sono ottimi adesso si fa un passo in più perché dobbiamo arrivare a una percentuale come scritto sulla lavagna sempre maggiore quindi stiamo prendendo una strada l'Italia è tra i primi paesi in Europa per percentuale di vaccinati non capisco perché si debba parlare di altre i controlli sui posti di lavoro come verranno organizzati ecco non so vi siete preoccupati di come gestire anche eventuali conflitti all'interno delle aziende insomma questo sicuramente c'è stato un confronto ovviamente tra le associazioni di categoria e sindacati quindi chiaramente l'importante è creare dei protocolli chiari e precisi dove ci siano questi controlli e l'onere per le aziende non diventi per le aziende un esborso un dover controllare doversi diciamo fare il polizio sì però non deve essere una cosa dove l'azienda deve faticare a portare avanti ci devono essere dei protocolli chiari certo fai una volta esatto il tampone nelle 72 ore non è un po' troppo adesso con la risposta anche delle forze perché sappiamo che il green pass te lo danno anche se tu hai fatto un molecolare nelle 72 ore precedenti deve prendere il microfono qualcuno dice che insomma tre giorni sono tanti può succedere di tutto in tre giorni può succedere di tutto anche in poche ore quindi questo sarà un compromesso arbitrario tra la fattibilità del fatto che il molecolare ci mette già tanto a darti la risposta rispetto all'antigenico che invece si fa rapidamente e che quindi la risposta ti può venire anche 24 ore dopo a quel punto ci avresti solo un giorno per usarlo quindi si è voluto trovare un compromesso di fattibilità e parte scientifica le aggiungo una cosa sui controlli c'era stato il clima del terrore cosa succederà nei ristoranti io l'altro giorno sono andato in un ristorante con la sala piena un ristoratore mi ha detto grazie che c'è il Green Pass perché senza Green Pass io non avrei il ristorante pieno all'interno perché grazie al Green Pass si può permettere a queste attività di aprire cosa risponde a questa obiezione Don Zelli se si riapre può essere una cosa positiva è comunque senz'altro una cosa positiva guardate non è che si può confondere chi chiude con il diritto alla libertà prima abbiamo detto ai ristoranti che avevano dei protocolli per stare aperti in sicurezza che rispettando quei protocolli loro potevano stare aperti non c'era alcun rischio hanno fatto i lavori si sono adeguati e poi gli abbiamo detto no vi si chiude lo stesso oggi gli si dice vi si riapre se fate il Green Pass non è che è un segno di libertà è un segno che non si è fatto delle regole serie o prima o dopo mi permetto di dire una cosa scusatemi però sulla quarantena ma la libertà di non vaccinarsi perché uno deve essere libero ad andare in giro a effettare gli altri mi perdoni ma guardo scusatemi se è così se ci sono no scusatemi se ci sono delle prove scientifiche per cui non ci deve essere libertà di non vaccinarsi e allora si leva la libertà di non vaccinarsi non vedo perché non si assumono la responsabilità politica di fare una legge se sono convinti di questo per mettere l'obbligo vaccinale io sono convinto che i vaccini siano importanti ma l'obbligo vaccinale non sia la soluzione ma se avete deciso che tutti si devono vaccinare fatelo per legge senza prendere in giro gli italiani aggiungo una cosa sulla quarantena scusatemi perché e poi lascio ovviamente replicare c'è anche un problema su queste quarantene se il Green Pass mette in sicurezza dal contagio comunque ne riduce profondamente i rischi del contagio perché uno che ha il Green Pass deve fare la quarantena come uno che non si è vaccinato e perché non avete pensato in tempo adeguato a rifinanziare l'Inps per le quarantene oggi c'è il rischio che uno fa il Green Pass si trova per un altro costretto a stare a casa in quarantena e in più non sa nemmeno chi gli paga la quarantena tutta questa confusione incoraggia Novax questo vostro caos nel gestire le situazioni è il miglior vento nelle vele dei Novax Riccardo io dico ma se stiamo percorrendo una strada e quella strada ci sta dando dei risultati con questa andatura ma perché io devo accelerare o frenare io sto andando bene le persone si stanno vaccinando in Italia il Green Pass io concluderei il Green Pass sta portando dei risultati poi chi mi dice oggi che il Green Pass è liberticida io voglio vedere se introduci l'obbligo vaccinale perché ora è una scusa perché se domani si introduce l'obbligo vaccinale figuriamoci chi dice che il Green Pass è liberticida cosa direbbe di fronte all'obbligo vaccinale Suvia non prendiamoci in giro su questa cosa questa è un'argomentazione che lascia il tempo che trova è stato anche detto il discorso delle responsabilità benissimo dalla dottoressa quindi davvero è un'arma che secondo me dialettica che ha poco senso velocemente perché poi voglio andare in un altro argomento che interessa a tutti cioè il Catasto e le case e leggo delle agenzie Salvini in conferenza stampa dice non ridisco quando sento parlare di licenziamenti per i lavoratori che non hanno il Green Pass ma i licenziamenti non ci sono sono stati levati anche dalla firma di Mattarella non ridisco quando sento parlare con facilità di terapie o vaccini ai bimbi di 7-9 anni aggiungo anche che ieri alla Camera ben 50 deputati leghisti erano assenti al voto di fiducia sul Green Pass a parte che c'è chi dice che state mettendo troppe fiducia e questo ve lo dico a voi del governo Donzelli il fatto che tanti leghisti non si siano presentati è un segnale politico la pensano come voi? questo va chiesto ai leghisti ovviamente Fratelli Italia eravamo presenti abbiamo votato contro la fiducia con linearità come facciamo sempre però vi parlate siete alleati vi presentate insieme alle amministrative non so l'ha donato che è uscita l'europarlamentare credo che ci siano troppe fiduce credo che ci sia un problema serio di dignità del Parlamento perché se l'unica opposizione è Fratelli d'Italia tutta la difficoltà a portare in aula i provvedimenti non ci dovrebbero essere con i numeri per quanto siamo bravi noi siamo 30 deputati 35 insomma ecco la necessità di andare di fiducia in fiducia perché in Parlamento non si può discutere con l'unica opposizione 35 deputati mi sembra ecco un po' una forzatura rispetto alla dialettica democratica non capisco qual è il problema se l'unica opposizione siamo noi non mi ha risposto sulla domanda sulla Lega però giustamente lei dice sono in un altro partito vabbè mi incuriosisce capire cosa avviene nell'area del centro-destra dopo che abbiamo parlato tante volte di quello che succedeva nel movimento del PD per cui insomma ognuno il suo allora vi voglio introdurre un argomento importantissimo perché da quando faccio la giornalista politica cioè dal secolo scorso che sento parlare del tema della riforma del catasto perché cosa succede che il nostro catasto è obsoleto quindi chi ha una casa al centro storico delle grandi città paga di IMU molto meno che magari chi ha una villa in periferia ad un piccolo centro e tutto questo è iniquo ora l'Unione Europea ci dice che dobbiamo rimettere le mani nell'ambito del riordino fiscale che vandrà fatto per accedere ai fondi del recovery plan guardate un po' il nostro grisafi come ce la racconta questa storia siamo in un appartamento ristrutturato al centro un doppio salotto la zona pranzo beh è un appartamento di pregio sì però ecco è un classe A3 per cui una classe cosiddetta economica come imposizione fiscale avrà lo stesso valore diciamo di una casa in periferia sì avete sentito bene case in pieno centro che al catastro risultano di tipo economico e abitazioni in zone periferiche della città classificate come signorini e la differenza non è solo formale perché in base al valore o rendita catastale di un immobile si pagano più o meno tasse e così l'Imu l'Irpef le imposte su donazioni e successioni ma anche tassa di registro IVA possono diventare un vero salasso di che cifre stiamo parlando? faccio un esempio un appartamento nel centro storico di una città che ha una categoria A3 quindi economica paga l'Imu su una rendita catastale spesso di 60.000 euro invece per le caratteristiche centrali per le caratteristiche di pregio dovrebbe pagarne per una categoria superiore una a due e quindi una liquida Imu su un valore catastale per lo meno di 120-150.000 euro Ma come è possibile che in molte città può capitare che case di lusso vendute a prezzi da capogiro paghino meno imposte di abitazioni popolari? Le rendite catastali non sono aggiornate da decenni e non tengono conto delle variazioni che nel frattempo sono intervenute nel mercato immobiliare Altro elemento importante che non viene considerato è che si prendono come elementi di valutazione i vani quando invece ormai oggi il criterio assodato è quello del metro quadrato Della revisione del catasto se ne parla da anni ma adesso potrebbe essere alla volta buona almeno nelle intenzioni del governo Draghi che punta a inserirla all'interno della più ampia riforma fiscale Allora la questione è complicata perché se è vero che magari ci sarà qualcuno che pagherà di meno ci sarà qualcuno che pagherà di più sto parlando a tutti noi proprietari di casa tutti voi proprietari di casa e secondo case Ricciardi e Donzelli In questo momento noi abbiamo sentito riforma del catasto che è un titolo cioè stiamo giudicando un film ma la facciamo da un titolo sostanzialmente quando arriverà ci sederemo col governo a discutere di quella che è l'iniziativa del Presidente del Consiglio insomma in Consiglio dei Ministri ogni partito di maggioranza e poi in Parlamento anche d'opposizione porterà la sua proposta è evidente che in questo momento noi dobbiamo far sì che i soldi che entrano in economia reale quindi di chi ha soldi che li spende per fare la spesa i soldi che non li mette in speculazioni finanziarie si vadano ad abbassare le tasse per queste persone quindi se ci sono delle persone che vivono nelle periferie in abitazioni ovviamente non di pregio gli si può andare ad abbassare le tasse è sicuramente una direzione giusta è chiaro che è una riforma talmente complessa e come ha detto lei prima sono 30 anni che se ne parla anche diciamo giovani parlamentari ma io me lo ricordo da tempo poi alla fine non si fa perché siccome c'è qualcuno soprattutto l'aggiornamento perché adesso la parte fiscale ovviamente questo io pure ci ho avuto i miei guai perché chiunque si sia rivolto al catasto visto che non ce n'era una giusta di cose segnate sul catasto l'aggiornamento voglio dire io mi sono trovata in condizioni in cui c'erano registrati i proprietari i nonni di mia nonna che erano morti un sacco di tempo prima quindi intanto un aggiornamento e poi certamente la parte fiscale ecco Donzelli perché poi il tema è siccome poi c'è qualcuno che pagherà di più nessuno la fa questa riforma ecco pensa che sia giusto io sono terrorizzato da questa ipotesi siamo contrarissimi perché quando vediamo i governi di larghe intese con dentro la sinistra che parlano di ristrutturare vuol dire aumentare le tasse lo sappiamo l'esperienza è questa e crediamo che aumentare le tasse sulla casa sia una follia dal punto di vista economico finanziario e l'ultima cosa oddio se andiamo a se andiamo a stoppare il mercato immobiliare aumentando le tasse è la fine c'è questo rischio? una battuta chi ha diminuito le tasse alle imprese è stato il governo Conte 2 e chi sta parlando di abolizione dell'IRAP sulle tasse che vanno diminuite che sono quelle sul lavoro siamo noi e stiamo portando avanti che qualcuno paghi di più noi dobbiamo abbassare le tasse sul lavoro è questo fondamentale un'azienda non deve avere paura ma deve essere incentivato ad assumere il dramma in Italia è questo che bisogna abbassare le tasse sul costo del lavoro e noi abbiamo cominciato già a farlo col Conte 2 e adesso Conte ha rilanciato a tutti i partiti la sfida di abolire finalmente l'IRAP per le imprese vorrei fare una domanda perché non ho capito vorremmo sederci al tavolino parlando vorremmo sederci al tavolino parlando di questo in questo momento dire la riforma del catastro la riforma del catastro è un titolo ogni partito ogni movimento arriverà a questo tavolo con il loro con la propria proposta scusatemi mi sto preoccupando ancora di più stavamo parlando di tasse sulla casa e improvvisamente sento dire bisogna diminuire le tasse sul lavoro quindi vuol dire che il Movimento 5 Stelle le propone no non ti ho interrotto mi fai una domanda a me sto parlando io adesso voglio capire la proposta vostra è quella quindi di aumentare le tasse sulla casa in modo surrettizio con la riforma del catastro per diminuire le tasse sul lavoro o ha cambiato argomento no perché di questo si tratta parlavamo di tasse sulla casa e lei ha parlato delle tasse sul lavoro perché vuole mettere le tasse sulla casa per diminuire le altre o ha cambiato argomento perché non voleva parlare delle tasse sulla casa una riforma fiscale non si può fare a spot come sta facendo lei una riforma fiscale è un argomento enormemente complesso ogni partito avrà la sua priorità la priorità del Movimento 5 Stelle è abbassare le tasse sul lavoro per le imprese va bene allora chiudiamo con le domande con una domanda sul Covid che riguarda la terza dose abbiamo avuto qui ospite lo scrittore israeliano che ha meno di 50 anni e aveva già fatto la terza dose prima cosa non sarebbe stato più giusto darla prima ai paesi poveri posto che diciamo se tutti ci vacciniamo si evitano anche le varianti però questa è una valutazione di carattere diciamo politico e ovviamente non compete a lei Salmaso può darci soltanto un consiglio chi dovrà fare la terza dose perché c'è un calendario che prevede anche gli over 80 e nel momento in cui si rivaccina con la terza dose si fa il booster al personale sanitario allora io mi domando chiunque di noi dovrebbe farlo perché vuol dire che questo vaccino non ci protegge momento una cosa per volta brava allora è vero che l'organizzazione mondiale della sanità ha detto anziché continuare a vaccinare sempre la stessa fetta di popolazione mondiale fate vaccinare pure gli altri quindi questo è un altro discorso come giustamente è stato detto comunque tutto è nato dalle osservazioni soprattutto in Israele che in quanto a produzione di dati è proprio una macchina eccellente dove si sono accorti che essendo partiti prima hanno vaccinato prima dopo 4-5 mesi e dopo un periodo in cui avevano pochissimi casi improvvisamente con i viaggi i turisti hanno avuto moltissimi casi in effetti si è visto che nei confronti dell'infezione i vaccini avevano soprattutto per via avevano un'efficacia sul campo un po' minore a quella che abbiamo a quella che ci aspettavamo soprattutto perché poi è uscita questa variante delta che è più aggressiva e quindi c'è stato il combinato disposto tra variante più aggressiva e calo dell'immunità e quindi in Israele hanno detto partiamo subito con una terza dose dei quali hanno portato i dati dopo il primo mese dove hanno visto che sono riusciti a diminuire di 10 volte in effetti le infezioni tra i vaccinati con la terza dose però in Italia noi abbiamo i dati di efficacia che ci dicono che le vaccinazioni fatte anche quelli degli ultimi 30 giorni i dati proteggono ancora molto bene nei confronti dei ricoveri in terapia intensiva dei decessi quindi della parte più severa sulle infezioni un po' di meno quindi si è deciso all'inizio di vaccinare i soggetti più fragili con la terza dose e quelli i soggetti anziani quindi gli immunodepressi i soggetti anziani e quelli che sono esposti in particolar modo a rischio di infezione cioè i sanitari che si sono vaccinati tanto tempo fa per la popolazione generale è ancora non è stato deciso se questo comporti effettivamente ma allo stato attuale non vedo perché siamo ancora in una fase in cui i vaccini stanno funzionando sugli effetti quindi diciamo fino a 6 mesi ci arriviamo quindi per ora io aspetterei di vedere delle valutazioni grazie per essere stati con noi grazie Donzelli grazie Ricciardi grazie Salmaso ci vediamo domani alle 14